E torna a grande richiesta il Cap D, un cappellino nuovo ogni settimana, questo di 511 è il Duty Rain Cap. Un cappello che su tutte ha una caratteristica, è impermeabile, non poco, è impermeabile serio fino a 10.000 mm di colonnina d'acqua. Una roba impressionante, se abbiamo un dovere da svolgere, se abbiamo qualcosa da fare, beh non dobbiamo preoccuparci della pioggia. Si fa e basta. Vedete come le cuciture sono già ridotte, è un cappello fatto a 5 spicchi, dove ci sono delle cuciture e sono ripassate internamente, sono saldate internamente per renderlo impermeabile. Qui vediamo il logo 511, è una fascia morbida comfort che ci permette di vestirlo in tutta comodità. Il cappello ha a disposizione la regolazione in vecchio, quindi si adatta a tutte le teste. Il logino di 511 è visibile qui, è visibile all'interno ed è visibile ricamato sulla testa qui, dove c'è la possibilità di applicare una piccola patch. Ma se non lo facciamo, se lo lasciamo in questo modo, è un cappello molto poco vistoso. Il tessuto è impermeabile ma è anche traspirante, questo è fondamentale, altrimenti facciamo che sudiamo con il nostro stesso vapore e ci bagniamo dall'interno, non va bene. Fondamentale è un po' di carta assorbente, la ripiego per bene e la inserisco sotto il cappello. Ok, già tutta per terra, va bene, ok. Ho già fatto troppi danni ragazzi, siamo pieni d'acqua. Lo vedete vero? È completamente asciutto. Allora adesso rimuovo la carta e vi mostro che è tutta completamente asciutta, ma siete su backpack. Queste dimostrazioni servono per passare il tempo, non certo per dimostrarvi che i prodotti di 5.11 sono davvero ottimi. Un cappellino fantastico!